Tragedia sfiorata questa mattina sul versante Carinziano delle Alpi Carni, che un elicottero dell'esercito austriaco si è schiantato sulle rocce, a illesi, 4 a bordo. Frontale nella notte in comune di Codroipo, grave un 39enne, ferita una ragazza all'ottavo mese di gravidanza. Due medici su tre sono vittima di aggressione, il 70% delle vittime sono donne. Patto tra l'ordine e la questura per fronteggiare l'emergenza. Piacevole sorpresa per i partecipanti del City Camp con l'incontro di Popanae Balic, oltre al campione del mondo Franco Causio. Ben ritrovati con l'informazione di Udinews TV. Avete sentito nei titoli le principali notizie di oggi, ma parleremo di molto altro ancora e avremo un approfondimento particolare. In studio con noi oggi c'è Umberto Marin, presidente di Time for Africa. Buongiorno. Buongiorno a voi. Con lui tra poco ci ritroveremo per affrontare un'iniziativa che in corso si concluderà domani a Udine. Parliamo di Casa Loro, Africa senza stereotipi. Un argomento molto d'attualità alla luce anche delle recenti decisioni del vertice dell'Unione Europea sulla gestione dei migranti. Ma in apertura, l'avete sentito nei titoli, questa tragedia sfiorata avvenuta stamattina sulle vette delle Alpi Carniche, come riportano i mezzi di informazione carinziani. Un elicottero in dotazione all'esercito federale austriaco, modello Howlett III, è andato a schiantarsi contro le rocce a quota 2000 metri, nei pressi del passo di Monte Croce Carnico, in territorio carinziano, al confine con la Carnia. L'elicottero stava venendo utilizzato per il trasporto di personale e materiale nella costruzione del sistema di sicurezza del passo. Quattro persone erano a bordo quando il velivolo, attorno alle 10.26, è stato preda di una violenta turbolenza nella zona di Plock and Pass del lago Volaia. L'elicottero si è spaccato, come ha spiegato il portavoce dell'esercito Michael Bauer, e si è rovesciato. All'improvviso il relitto ha preso fuoco. Miracolosamente il pilota e i tre membri dell'equipaggio sono stati in grado di liberarsi e mettersi in salvo. Immediatamente una squadra di soccorso è stata inviata sul posto. Spetterà ora ad una commissione governativa a chiarire le cause del disastro. Veniamo ora in regione, a Codroipo in particolare, dove c'è stato l'ennesimo scontro frontale nella notte lungo la strada Pontebana. Tre i feriti, tra cui una 25enne all'ottavo mese di gravidanza. Ha coinvolto anche un noto gestore di un bar di Udine. Ci racconta i dettagli nel prossimo servizio. Francesca Santoro. Due Fiat Punto si sono scontrate frontalmente nella notte sulla Pontebana a Codroipo, di fronte alla tenuta vitivinicola a Pittaro. Tutti feriti, tre occupanti delle macchine, tra cui una giovane in avanzato stato di gravidanza. L'auto che stava andando verso Udine era condotta da un 39enne che gestisce un noto bar in centro. Nell'altra vettura, finita nel fosso a bordo carreggiata, due donne dominicane, mamma e figlia, rispettivamente di 43 e 25 anni, quest'ultima incinta all'ottavo mese. A riportare le ferite più gravi è stato l'uomo, rimasto incastrato nell'abitacolo ed estratto dai vigili del fuoco volontari di Codroipo, che hanno dato supporto al personale medico, per poi mettere in sicurezza i mezzi incitentati. I tre feriti sono stati portati in ospedale, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita, nonostante le serie lesioni riportate. Sul posto tre ambulanze, una della Croce Rossa da Codroipo e due provenienti da Udine. A eseguire i rilievi per capire le cause dell'incidente, sono stati i carabinieri del radiomobile di Udine. Vigili del fuoco impegnati ieri notte anche in via Riccardo di Giusto, a Udine, dove poco dopo le 22, nel complesso condominiale al Civico 86, è scattato l'allarme per una fuga di gas. I residenti avevano alertato il 112 per il forte odore, che ha spinto moltissime persone a uscire in strada. Oltre ai vigili del fuoco, sono stati immediatamente attivati anche i tecnici di Acegas APS AMGA. I pompieri hanno ispezionato tutti i locali, scoprendo che nello scantinato dell'edificio, non distante dal vano scale dell'ascensore, c'era una bombola GPL da 15 kg, con il rubinetto completamente aperto e uno spezzone di gomma collegato e tranciato. Dopo aver chiuso la valvola, la bombola è stata portata all'esterno, sul posto anche due pattuglie della polizia, per gli accertamenti del caso. E sono andate avanti per tutta la notte le attività dei vigili del fuoco di Pordenone, Maniago e Spilimbergo, impegnate a domare un vasto incendio scoppiato dopo le 22 in un deposito agricolo in via dei Molini ad Aviano. Le fiamme hanno causato ingenti danni alla struttura, che si estende su una superficie di 200 metri quadri. Distrutta anche l'attrezzatura agricola depositata all'interno. Nel casolare c'erano alcune bombole di gas che hanno innescato esplosioni. Paura anche per il proprietario, che in un primo momento non si trovava e si temeva potesse essere rimasto coinvolto. Fortunatamente l'uomo è stato trovato illeso stamattina sopra luoghi per acchiarire le cause dell'incendio. È di circa 9.000 euro invece il bottino messo a segno nella sede dell'Agenzia Lenarduzzi in via nazionale a Tavagnacco. Un percorso piuttosto complicato, quello scelto dai ladri, per entrare nello stabile. Secondo i primi rilievi, infatti, si sarebbero creati una via scendendo dal tetto dell'edificio. Da lì poi hanno avuto facile accesso agli uffici, dove non hanno trascurato niente, scrivanie, cassetti, armadi e appunto razziando circa 9.000 euro in contante. Ad accorgersi del furto, i dipendenti dell'Agenzia, indagini in corso dei carabinieri. L'adrinazione pure a Udine e provincia, verso le 20 malviventi, hanno rotto una vetrata al piano terra di una casa in centro città. Sono state sottratte due collane d'oro per un valore di 5.000 euro. Sempre nella tarda serata di ieri, i gnoti hanno forzato la porta d'ingresso in un'abitazione a Reana del Royale. Il bottino è ancora in corso di quantificazione e ancora l'una di notte ad essere preso di mira un furgone parcheggiato in una via di Butrio asportati fotocamere e zainetti 1.500 euro in contanti per tutti i furti. Stanno indagando gli uomini dell'arma dei carabinieri. Passiamo ora ad affrontare una questione spinosa, ovvero quella delle aggressioni al personale sanitario, medici, infermieri, sempre più frequenti anche nella nostra regione. Oggi nella sede dell'Ordine dei Medici di Udine si è fatto il punto, una faccia a faccia anche con la Acquestura per cercare di trovare delle soluzioni. Ci spiega tutto Monica Nardini. Due medici su tre vittime di aggressioni verbali o fisiche, almeno tre i casi quotidiani in tutta Italia, i danni degli operatori sanitari, in prevalenza donne. Ma la situazione rispecchia anche il contesto regionale, stando alle stime condivise durante il corso organizzato dall'Ordine dei Medici di Udine per fornire agli iscritti strumenti utili a gestire le situazioni a rischio e tutelare l'incolumità. Il fenomeno è in crescita e sottostimato, spiega il Presidente dell'Ordine, perché molte aggressioni non vengono segnalate. Il fenomeno è preoccupante perché c'è un'escalation, ultimamente lo stiamo vedendo. Pare che le cause siano molteplici, per esempio, sicuramente l'organizzazione del lavoro, il rapporto medico-paziente, intendo il tempo dedicato ad ascoltare il paziente, la diffusione di certe notizie come le fake news, l'attesa di grandi cose da parte della medicina che non può dare, la banalizzazione del lato medico. In questo corso cerchiamo di capire come stanno le cose, in che modo intervenire, nel, diciamo, sgonfiare i momenti che possono essere cosiddetti eventi sentinella che possono provocare poi uno scatenare un'aggressione oppure una lesione personale. Oggi avete rilanciato un appello anche alle istituzioni, alle forze dell'ordine per un sostegno nella sicurezza. Sì, il dottor Garocci che è il vicequestore ha detto che stanno studiando il problema e quindi avremo una sorta di allarme nel senso che quando si manifesta una situazione di questo genere ci possa essere un campanello o qualcosa che avverte l'autorità giudiziaria o la polizia. C'è una mappatura dove inserire questi allarmi? Che cosa avverrà? Faranno una mappatura delle zone a rischio. Rispetto a altre iniziative come è venuto a Pordenone con il coinvolgimento dell'Associazione Nazionale Alpini che fornirà un supporto alla tutela dei colleghi nel Pordenonese? È un metodo che hanno adottato là se va bene cercheremo di fare qualche cosa anche noi però allo stato attuale la vicinanza dell'autorità giudiziaria della questura ci dà molto conforto. E a proposito di forze dell'ordine la polizia locale torna alle dipendenze dirette del comune di Udine così come i servizi tributali e il resto del personale dopo che era passata quella dell'Uti Friuli Centrale. Udine era infatti l'unico tra gli ex capologhi di provincia in questa situazione. Il procedimento si dovrebbe concludere entro il primo gennaio del prossimo anno ma è possibile che la vicenda amministrativa si completi anche prima. Il provvedimento è stato approvato con 26 voti favorevoli e 11 contrari nel corso della seduta del consiglio comunale di ieri sera. Si è messo così fine a una questione che aveva sollevato numerose polemiche sin dalla sua origine. Ora con il completamento del passaggio non ci dovrebbe essere più scuse per l'operatività degli agenti di polizia locale al comune di Udine. A proposito di comune di Udine è stato sottoscritto un patto con la prefettura per l'aumento della videosorveglianza ben 9,21 telecamere che verranno installate in città così come saranno 14 quelle che verranno installate anche a Gorizia a seguito di un altro accordo tra il sindaco Ziberna e il prefetto Massimo Marchiesello i fondi verranno utilizzati per la videosorveglianza degli edifici scolastici alcuni dei quali interessati recentemente da gravi atti vandalici. Veniamo al bilancio ora della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia con il rendiconto 2017 della Regione che è passato al setaccio anche se sono presenti alcune criticità e l'amministrazione viene indicata a un migliore rispetto delle procedure sia amministrative che contabili il rendiconto è stato giudicato affidabile e poi le richieste da parte del giudizio di parificazione vanno ad una più puntuale attenzione verso le scadenze temporali nonché all'effettuazione dei controlli effettivi prima di ciascun pagamento. una Regione virtuosa con soltanto piccoli cedimenti che vanno monitorati subito perché possono essere risolti ha dichiarato il Procuratore della Corte dei Conti Tiziana Spedicato un parere espresso a margine della cerimonia che si è tenuta stamattina vedete le immagini alla presenza del Governatore della Regione Massimiliano Fedriga. Parliamo di economia ora e di strutture ricettive in particolare secondo un'analisi di Confcommercio gli imprenditori gli albergatori della Regione sono disponibili ad investire per il miglioramento delle loro strutture però servono più fondi e da qui l'appello alla Regione. In Friuli Venezia Giulia un imprenditore del turismo su tre è disposto a effettuare investimenti nel prossimo triennio per miglioramenti strutturali per la formazione del personale e per il marketing online a patto però che la Regione aumenti i finanziamenti a disposizione a fronte di appena 1.900.000 euro stanziato per il 2018 lo rimarca la Presidente regionale di Federalberghi Paola Snyder alla luce di un'indagine sulla struttura dell'offerta turistica regionale 890 sono le imprese ricettive registrate che gestiscono complessivamente 1.962 unità tra alberghi bed and breakfast alloggi agrituristici per un totale di oltre 33.000 camere l'osservatorio di Confcommercio FWG ha focalizzato l'attenzione sull'interesse degli imprenditori a incrementare la qualità della propria azienda il 42% delle imprese del turismo ha effettuato investimenti negli ultimi tre anni con una propensione più marcata in provincia di Udine chi non ha investito ha dichiarato in un terzo dei casi di non aver avuto a disposizione i fondi necessari ma l'intenzione è appunto di continuare a investire nel prossimo triennio a dimostrazione rimarca Paola Snyder di una forte propensione degli operatori a migliorare la qualità dell'offerta per far fronte alle opportunità del turismo globale per questo servono più fondi eppure una revisione dei rapporti con il sistema bancario continuano continuano anche oggi a Udine gli appuntamenti di conoscenza in festa la Kermess promossa dall'università per guardare al futuro in un appuntamento in particolare quello di ieri sera seguitissimo in piazza San Giacomo protagonista Salvatore Aranzulla uno dei più noti guru dell'informatica e delle novità tecnologiche l'ha intervistato per noi Alice Mattelloni quello di Salvatore Aranzulla il blog ormai più consultato per quanto riguarda le tematiche digitali questa sera qui a Udine per un intervento Salvatore quali sono le domande più frequenti? la domanda più frequente che ricevo su aranzulla.it è come contattare il proprio operatore telefonico è davvero difficile riuscire a mettersi in contatto con un umano con una persona fisica quando si ha un problema con il proprio operatore telefonico e sul mio sito svelo la combinazione da digitare per parlare con una persona fisica quando si ha un problema quindi in realtà si cerca il contatto fisico il contatto con l'uomo e non con la macchina in questo senso? assolutamente le persone hanno necessità di parlare ancora con degli umani con delle persone fisiche la tematica di questa sera è l'identità digitale allora quali sono i consigli per evitare un furto dell'identità digitale? sì il furto di identità digitale oggi viene compiuto tramite le informazioni pubblicate sui social network quando si condividono delle informazioni sui social network occorre tenere in considerazione che queste informazioni diventano pubbliche e quindi è necessario lavorare sulle impostazioni sulla privacy e decidere quali informazioni vogliamo rendere pubbliche e quali invece far vedere ad esempio solo i nostri amici le università si stanno muovendo per cercare di essere all'avanguardia e questo è anche un po' lo scopo di questa serata di questa iniziativa come valuti questo? assolutamente è importante avvicinare le persone alla tecnologia e alla conoscenza nella maniera più semplice possibile d'altronde quello che faccio su aranzula.it è spiegare in maniera semplice la tecnologia e risolvere i problemi che gli italiani hanno con la tecnologia non solo conoscenza in festa ma in queste giornate a Udine c'è un'altra iniziativa molto importante parliamo di Casa Loro Africa senza stereotipi promossa dall'associazione Time for Africa e proprio di questa iniziativa parliamo oggi assieme al nostro ospite Umberto Marin come mai avete deciso di promuovere questi incontri con tanti ospiti d'eccezione? l'idea è partita lo scorso anno ancora a seguito dell'appello di Alex Zanotelli sulla questione dei media dell'informazione in Africa quindi il rapporto media-Africa che spesso è squilibrato e non aiuta a comprendere le dinamiche i problemi delle Afriche perché poi l'Africa è un grande continente con 54 paesi per cui da lì assieme al giornalista Fabio Folisi di Friuli Sera abbiamo messo in piedi questo percorso che si concluderà domani con questo corso deontologico aperto per i giornalisti ma aperto il pubblico proprio per sollecitare i giornalisti e quando fanno formazione parlare d'Africa lo facciano nel migliore di modi e più completo possibile al fine di evitare poi gli stereotipi che poi possono condizionare in maniera negativa anche l'opinione pubblica a proposito di stereotipi sono giornate in cui si dibatte molto anche sui rapporti tra Europa e Africa per la questione dei migranti che cosa chiedete a voi di sfatare su queste informazioni che arrivano e su questi rapporti difficili beh la prima cosa è che sfatiamo il discorso dell'invasione non è un'invasione casomai l'invasione ce l'hanno gli stati africani perché il 99% delle immigrazioni delle richieste d'asilo sono tutte concentrate in Africa quindi in Europa arriva lo 0,0 ora l'altra questione è che è vero scappano scappano forse da guerre da miseria eccetera ma forse scappano anche perché lo sviluppo economico africano in questi ultimi anni di neoliberismo eccetera sta facendo una pressione migratoria forse anche voluta stiamo approfondendo un po' questa questione perché è vero che c'è la miseria l'ingiustizia eccetera ma credo ci sia qualcosa di più complesso sotto e una politica intelligente acuta dovrebbe guardare avanti e quindi capire che il tema delle immigrazioni non è gestibile con gli slogan ci vuole una politica lungimiranza e mettere risorse in campo a proposito di risorse voi nel vostro piccolo state continuando a portare avanti tante iniziative per far crescere questi paesi sul loro territorio come sta andando? ovviamente noi siamo un'associazione di piccola scala però nel nostro piccolo abbiamo in questi anni sviluppato alcune attività di produzione di reddito in partenariato anche con altre associazioni di migranti africani che operano a Udile in particolare un progetto peperoncino in Mozambico un forno per il pane in Togo con grazie anche la partnership con Baobad poi adesso un grande progetto in Nigeria Lagos African Fashion Urban Urban Fashion cioè sviluppare un hub all'interno di un quartiere per sostenere economie urbane un ultimo flash Marin a proposito di Africa e di sviluppo ci sono delle nazioni che stanno con le proprie forze cercando degli spiragli esempi recenti sono per esempio in Etiopia con un giovane presidente che sta guidando il paese fuori dalle recenti guerre beh sì sicuramente si sta facendo una nuova leadership in Etiopia soprattutto salutiamo in maniera molto positiva anche perché questo ha consentito di avviare questi colloqui di pace con l'Eritrea e non dimentichiamoci che l'Eritrea è quella che come dire da cui scappano moltissime persone e quindi c'è da augurarsi che questo protagonismo del nuovo presidente possa influire positivamente anche su quel regime in modo tale anche da dare la possibilità ai giovani di rimanere sulle loro terre e pensare al proprio sviluppo senza dover come dire sottostare ad angherie e come dire per esempio quella del servizio militare obbligatorio che dura tutta la vita ricordiamo in chiusura l'appuntamento di domani per chi fosse interessato dunque intanto l'appuntamento per questa sera alle 18 alla biblioteca dell'Africa in via Cesare Battisti come si costruiscono gli stereotipi in Africa parleremo con Raffaele Masto un grande giornalista osservatore dell'Africa e con Sebastian Ruiz un giornalista spagnolo che scrive per il Paese e Mundo Negro quindi non mancate perché è molto interessante su come si costruiscono gli stereotipi mi permetti di dire che il problema gli stereotipi ovviamente ci stanno il problema la cosa che più ci crea un po' sconforto è che la percezione della realtà comunque non cambia e questo è un dato che non capiamo perché domani invece alla Camera di Commercio Sala Valduga alle ore 9 il workshop per i giornalisti aperto al pubblico proprio su Parliamo di Casa Loro grazie grazie ad Umberto Marin complimenti per le vostre iniziative noi apriamo ora la nostra pagina di sport e siamo pronti per collegarci con il nostro Maurizio Ferrari dalla Dacia Arena per farci raccontare le ultime novità dei City Camp e non solo a te Maurizio buongiorno David dalla Dacia Arena dove il tema principale questa mattina è stato sicuramente inquadrare quanto accaduto sui campi del centro sportivo di Nobruseschi a pochi passi da qui dove i nostri giovani ragazzi di City Camp che stanno esaurendo il loro programma della seconda settimana con il consueto grande entusiasmo hanno avuto il piacere di incrociarsi ovviamente con qualche elemento della prima squadra i primi giocatori che sono tornati al lavoro vi abbiamo mostrato qualche giorno fa qualche immagine di Seco Fofanà questa mattina si sono incrociati proprio con lui con Andrea Balici insomma si respira quell'aria di ritorno al lavoro davvero imminente da settimana prossima ovviamente si farà sul serio con i tanti giocatori della prima squadra che torneranno proprio a sudare qui per i primi test però per il presente si è anche toccato un altro tema ovviamente quello dei mondiali perché hanno avuto un'altra visita sicuramente piacevole quella anche di Franco Causio che abbiamo ascoltato anche i nostri microfoni in cui vi proporremo un'intervista questa sera in cui abbiamo parlato di mondiale perché è finita la fase a Gironi a Russia 2018 adesso si entra nel vivo anche di quella competizione si ritorna a parlare di calcio di primissimo livello perché dopo magari qualche sfida ad esempio ieri si è concluso un girone quello dove c'erano Inghilterra e Belgio dove i giochi erano già fatti con una giornata di anticipo adesso però le gare diventeranno tutte decisive diventeranno tutte fondamentali per provare a conquistare un sogno non c'è più la Germania ci sono delle sorprese importanti ci sarà qualche formazione che magari farà ancora flop però c'è tanta voglia di scoprire chi sarà alle fasi finalissime di questa competizione e ci sono soprattutto due giocatori dell'Udinese che continueremo a monitorare Valon Berami che ieri abbiamo sentito alla TV Svizzera ha fatto un po' di autocritica inevitabilmente per l'ultima partita che ha quasi fatto rischiare qualcosina alla sua selezione ma anche l'ambizione della Danimarca di Jens Trüger Larsen che ha fatto bene con l'Udinese che sta facendo bene da titolarissimo anche in nazionale deve affrontare la Francia proverà a raggiungere i quarti di finale per entrambe le nazionali raggiungere i quarti di finale sarebbe eguagliare il loro miglior risultato ai mondiali e poi chissà da lì pensare a qualcosa di più è logico è tutto molto difficile anche se l'impegno della Svizzera con la Svezia permette di sognare sicuramente di poter proseguire l'avventura mondiale per Valon Berami e in generale ovviamente noi non possiamo che fare il team per i nostri due ragazzi sottolineando che anche il terzo e Milafreson ha comunque disputato una buona competizione è chiaro che il nostro Mirino è puntato lì ma siamo anche in attesa di ritrovare il prima possibile loro così come tutti gli altri ragazzi della prima squadra per un ritiro che è davvero imminente dalla Dacia Arena per il momento è tutto Davide linea che torna a voi grazie grazie Maurizio allora noi vi diamo appuntamento al Tg di questa sera alle ore 19 prima di salutarci come di consueto la pillola meteo grazie per l'attenzione buona giornata nel pomeriggio questa luminosità tenerà più a spostarsi verso ovest mentre schiarite più ampi ad est ma sarà ancora possibile qualche rovescio temporale o qualche temporale che potrebbe interessare direi più probabilmente la fascia per il P dell'alta pianura ma non esclusa anche qualche altra località temperature massime oggi in pianura attorno ai 26 27 gradi anche sulla costa domani mattina ci svegliamo bene direi probabilmente bel tempo con cielo prevalentemente sereno temperature subito poi in rapida crescita domani sarà una giornata direi calda nel pomeriggio anche calda fosa in pianura con massime attorno ai 30 32 gradi sulla costa invece soffrirà un po' di vento di brezza quindi buona mattinata sicuramente poi nel pomeriggio un po' di variabilità soprattutto in montagna con direi probabili rovesci e qualche temporale che appunto interesserà sia la zona alpina che la zona prealpina quindi domani giornata calda poi domenica subito un calo delle temperature rimane infatti aree piuttosto umine negli stati medio-bassi il cielo sarà prevalentemente variabile o nuvoloso sulla nostra regione ancora possibile qualche isolato locale rovescio temporalesco prealpi carniche soffrirà un po' di vento di bora sulla costa e temperature massime che non dovrebbero andare oltre i 25 massimo 26 gradi quindi calo di 4-5 gradi rispetto alla giornata calda di domani direi che è tutto rimarrà probabilmente ancora fresco per l'inizio della settimana poi sicuramente il caldo tornerà a farsi sentire siamo infatti in estate vi auguriamo buon fine settimana e buon estate a tutti grazie a tutti